Domani sarà 3 ottobre, ricorre il settimo anniversario della tragedia di Lampedusa con il naufragio, ricorderete, dell'imbarcazione libica che causò la morte di 368 migranti una data che da allora viene ricordata con una giornata speciale della memoria e dell'accoglienza e allora ci colleghiamo con Pietro Bartolo, europarlamentare insomma che è stato tanti anni testimone di quel che accade a Lampedusa era il 2013, Bartolo, grazie per essere con noi innanzitutto che cosa, lo abbiamo detto, una strage che ricordiamo ogni anno che cosa non va dimenticato di quella giornata? Ma non va dimenticato di quella giornata, è stata una tragedia devo dire che ha cambiato un po' la vita dei Lampedusani ma anche la mia vita, di fronte a 368 corpi di cui tanti bambini, uomini, donne sicuramente non è qualcosa che si può sopportare è inaccettabile, assolutamente ricordo proprio quella mattina che io sono stato chiamato come di norma dalla guardia costiera che mi hanno detto dottore vado in banchina perché c'è stato un naufragio e ci sono tanti morti io non mi aspettavo così tanti però ne avevo visti prima 10, 12, 15, 20 che ti fanno tanto male nello stesso modo non è perché sono di meno anche uno solo fanno meno male di 368 ma quello non me l'aspettavo non me l'aspettavo ed è stato veramente qualcosa che mi ha stravolto vedere tutti quei sacchi di tutti i colori bianchi, blu, neri dove dentro c'erano anche tanti bambini e sinceramente quando dovevo fare le ispezioni quelle ispezioni che io odio avevo paura anche ad aprire quei sacchi non sapevo cosa trovavo dentro ed è stato un giorno che non dimenticheremo mai motivo per cui è stato anche riconosciuto come giornata della memoria ogni anno si ricorda quello perché non si può dimenticare non si deve dimenticare tutto quello che è successo che ha lasciato un segno profondo nella vita di Lampedusa e nella mia in modo particolare è degli italiani onorevole Bartolo ma credo che è degli italiani ma io credo che dovrebbe essere diciamo anche impresso anche nella mente e nel cuore di tutta l'Europa ma credo di tutto il mondo Senta lei ha veniamo alle questioni purtroppo dell'oggi perché lei di recente ha scattato delle foto che ritraggono dei migranti che erano appena fuggiti dai campi in Libia e che arrivati a Lampedusa erano ammassati sotto un pergolato sul molo di Lampedusa quindi lei ha chiesto una nave per poter procedere alla quarantena per queste persone ha ottenuto risposta c'è la disponibilità di questa nave c'è una notizia su questo Ma sì ma sì ovviamente dobbiamo considerare che il centro di Lampedusa si è ridotto nel tempo a causa degli incendi a un piccolo centro che può ospitare al massimo 100 persone o forse anche meno in cui purtroppo con le arrivi costanti di questi microsbarchi così adesso li chiamano e che è cambiato un pochettino le modalità di arrivo e quindi vengono vengono ammassati dentro quel centro e c'è stato un momento in cui non ce ne entravano più e quindi li lasciavano in banchina sotto quel pergolato come sotto quei gazebo a stare notte e giorno aspettando la nave di linea che li trasportasse in Sicilia e non era accettabile tutto questo ho chiesto insieme a Lampedusa e insieme al sindaco di trovare qualcosa che potesse accoglierli in modo più decente rispetto al fatto di stare notte e giorno sulla banchina a morire di freddo dopo tutte le sofferenze che avevano trascorso e grazie a Dio insomma anche se con un po' di ritardo il governo ha messo a disposizione delle navi per dove poterle ospitare poi sono diventate anche navi quarantena perché a causa del Covid ovviamente trovano l'opportunità di fare la quarantena su quelle navi io ritengo che anche questo non sia la soluzione migliore perché dopo aver attraversato il mare rischiato di morire molti muoiono e poi si trovano di nuovo a essere su una nave su una barca non è diciamo quello che loro gradiscono per cui sarebbe opportuno invece di trovare delle soluzioni alternative cioè dire in terraferma non a Lampedusa perché essendo una piccola isa non ha strutture la possibilità di trovare delle strutture in terraferma dove ospitarle e dove insomma fare la quarantena o trascorrere quel periodo durante il quale devono fare tutti i controlli e tutto quello che è necessario ma in una struttura dignitosa una struttura degna per le persone perché alla fine stiamo parlando di persone sai io non mi arrabbio diciamo mi sento a disagio quando sento fare queste differenze oppure io non sono più come chiamarli rifugiati richiedenti asilo clandestini migranti economici migranti climatici flussi non sanno più come chiamarli io dico solo una parola sono persone sono donne uomini bambini sono persone e non dico neanche come noi perché è superfluo dirle ma è normale ma sono delle persone tutto qua senta Bartolo ha visto che cosa è successo a Marsala spedizioni punitive nel weekend sono state arrestate tre persone spedizioni punitive a caccia di persone immigrate per starle insomma come commenta questi fatti fa impressione sentire che fatti come genere ancora accadano ma come accadono ne accadranno ancora di più se si continua con questa politica con questa cultura dell'odio del rancore perché non si è fatto altro che fare una narrazione completamente distorta rispetto a queste persone a queste persone ripeto una narrazione le hanno fatte apparire come dei mostri come degli alieni come un nemico che ti viene ad invadere che ti viene a togliere il lavoro che ti porta alle malattie e insomma non sanno più che cosa dire quando invece sono delle persone e questo comporta che cosa porta ovviamente a un sentimento di odio quasi ma io penso io dico questo mi creda io vado in giro molto a raccontare a fare sapere la gente non è cattiva alla fine semplicemente strategicamente io dico cattivamente informata e poi reagisce nel modo che poi vediamo con atti che sono fobia di razzismo ma questa è una grossa responsabilità una responsabilità enorme che hanno come gli uomini dell'istituzione che rappresentano l'istituzione a raccontare in modo distorto diciamo questo è il fenomeno della migrazione e quando sai se lo dice qualcuno di strada insomma una persona così va bene possiamo non accettarlo ma insomma ma se vengono queste cose vengono dette da parte di uomini dell'istituzione che rappresentano l'istituzione è una cosa gravissima quando invece io dico che dovremmo sederci attorno al tavolo ragionare e risolvere i problemi non acuirle non farne un cavallo di battaglia ecco grazie davvero chiarissimo il concetto che voleva dire Bartolo grazie per essere stato con noi